Stavo anche per berla, sta roba qui. Ma non sarà semplicemente scaduto? Ma secondo me questa è muffa. Ma che scaduto? Ma che muffa? Ma perché mi avete preso? Secondo me... se la sono presa per quella storia del maggiorino. No? E allora che può essere stato? Perché io non ho nemici. Guardi, torni a casa tranquillo. Adesso ci pensiamo. Va bene, arrivederci.